La società ISAB ha comunicato che l'evento del 26 agosto, pioggia oleosa, è consistito nel rilascio in atmosfera di una miscela di vapore acqueo e idrocarburi per una durata di circa due minuti. Il rilascio in atmosfera è stato conseguenza della corretta attivazione delle valvole di sicurezza dell'unità. L'evento di natura straordinaria è uno degli scenari di rischio previsti dall'analisi di sicurezza della raffineria. In relazione alle potenziali conseguenze ambientali, l'azienda precisa che nei termini di qualità dell'aria sono stati analizzati i dati delle centraline poste sul territorio, con particolare riferimento a quelle presenti negli abitanti di Cittagiardino e Belvedere, dai quali sono emersi i valori al di sotto delle soglie limite di riferimento. Intanto il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, ha chiesto un incontro con i dirigenti ISAB a proposito dello sfiaccolamento avvenuto ieri che non ha nulla a che vedere con la pioggia di idrocarburi, ma che anzi è un segnale di messa in sicurezza degli impianti. E' stato avviato l'iter di verifica con il Ministero dell'Ambiente e gli altri antilocali per le conseguenze della pioggia sul suolo e verrà avviata una campagna di caratterizzazione ambientale, prelevo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio, in relazione agli effetti di sporcamento di alcuni beni privati. ISAB ha attivato una casella di posta elettronica alla quale poter indirizzare le segnalazioni, segnalazioni-isab.com ISAB ha attivato una campagna di caratterizzazione ambientale, segnalazioni-isab.com